Poi ho ropera! Faneke! Sì, infatti dopo la stagione che abbiamo fatto, credo che ci aspetto un'altra stagione molto interessante e importante, come hai detto tu con la Champions League. Anche tante squadre si sono rinforzate, quindi sarà un campionato di nuovo interessante e non vedo l'ora di cominciare. Mi sono trovato molto bene anche con la squadra, secondo me avevamo un gruppo molto bello, molto vite. Ovviamente mi ricorderò per sempre la Coppa CEF, la vittoria, ma credo alla fine tutte le partite perché è stata davvero una stagione meravigliosa. Spero a tutti i tifosi, spero davvero che la stagione prossima ci possiamo vedere al palazzetto perché ci siete mancati e quindi un saluto a loro e ci vediamo presto. Ciao! 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 Ciao!